continuiamo la trattazione dell'apocalisse allora siamo giunti al capitolo 6 sto trattando l'apocalisse secondo l'interpretazione che viene data dai padri e dottori della chiesa ad esempio san vittorino vescovo di petovio nel suo commento all'apocalisse che è un commento diciamo il commento più antico dell'apocalisse del terzo secolo risale questo commento ci spiega appunto cosa sono i cavalieri dell'apocalisse che cosa rappresentano quindi stiamo trattando l'apertura dei dei sigilli che troviamo quindi l'apertura dei sette sigilli che troviamo nell'apocalisse i primi sei sigilli si legge nel capitolo 6 io quest'oggi tratterò l'apertura dei primi cinque sigilli poi nel prossimo video vedremo anche l'apertura del sesto sigillo che corrisponde al tempo dell'anticristo quindi i primi cinque sigilli invece corrispondono al nostro tempo e quindi è il periodo in cui cristo cioè inizia questo periodo quindi l'apertura del primo fino al quinto sigillo questo periodo già è iniziato quando appunto c'è stata la risurrezione di cristo e cristo è asceso in cielo da quel momento in poi la chiesa poi inizia a predicare il vangelo e quindi questo periodo dura ancora tutt'oggi quindi l'apocalisse parla appunto di questo cavallo bianco nel capitolo 6 quindi il primo sigillo e come ci spiega ad esempio san vittorino di pedovio ovviamente questo rappresenta il signore gesù cristo infatti vi leggo testualmente dice una volta aperto il primo sigillo dice di avere visto un cavallo bianco e un cavaliere incoronato munito di un arco questo in effetti avvenne con il primo sigillo dopo che nostro signore ascese in cielo e svelò ogni cosa e gli diffuse lo spirito santo affinché le sue parole tramite i predicatori raggiungessero come frecce il cuore degli uomini e vincessero la loro incredulità poi gli altri gli altri cavalli quindi il cavallo nero cavallo rosso e il cavallo pallido sono appunto rappresentano il corpo del diavolo che combatte appunto combatte la chiesa infatti dice il cavallo nero rappresenta la carestia allora san vittorino di pedovio questo è un commento del terzo secolo come ho già detto prima tratta l'aspetto letterale diciamo del di questi versetti dell'apocalisse quindi lui interpreta appunto come carestia letterale che ci sarà poi alla fine quindi questi cavalieri che seguono seguono appunto gesù cristo il primo cavallo che è il primo cavallo bianco sono allo stesso tempo da intendersi sia in senso spirituale quindi si tratta di guerre carestie e morte spirituale ma sono anche da intendersi in senso letterale perché mentre viene predicato il vangelo nel mondo come anche disse gesù cristo stesso nel vangelo di matteo ci sarebbero state guerre sarebbero state carestie e queste sono avvenute e avvengono tutt'oggi nel corso di questi secoli avvengono ancora tutt'oggi quindi ci sono carestie ci sono peste ci sono state appunto tutti questi eventi che tutt'oggi ancora avvengono e ci saranno come dice san vittorino fino alla fine cioè fino a quando poi sarà aperto il sesto sigillo in cui poi ci sarà l'anticristo quindi il cavallo nero rappresenta la carestia dice infatti il signore nei vangeli vi sarà carestia in diversi luoghi questo annuncio si prolunga propriamente fino ai tempi dell'anticristo cioè quando ci sarà una grande carestia poi quando leggiamo una bilancia in mano e la bilancia dice del giudizio per mostrare i meriti di ciascuno dice infatti la voce il vino e l'olio non rovinarli che significa non danneggiare l'olio il vino è ovvio che qui si parla anche di una carestia spirituale che cos'è l'olio il vino secondo il linguaggio biblico rappresenta l'uomo spirituale ecco infatti abbiamo tanti versetti che ora non ho tempo di trattare dove appunto il grano il vino hanno a che fare con l'uomo spirituale quindi con i credenti questi non vengono danneggiati dalla carestia spirituale quindi ripeto il versetto quindi è da applicare in senso letterale significa che in tutti questi secoli da quando cristo è asceso in cielo e comincia a essere predicato il vangelo viene predicato insomma il vangelo nel mondo c'è una carestia letterale nel mondo in vari luoghi ma c'è anche una carestia spirituale poi abbiamo il cavallo rosso che rappresenta la guerra anche questo c'è una guerra letterale ma c'è anche una guerra spirituale dove gli eretici per esempio combattono la chiesa quindi il colpo del diavolo ovviamente combatte la chiesa ecco dice il cavallo rosso rappresentano le guerre quelle future come leggiamo anche nell'evangelo che gesù parla appunto di guerre e poi abbiamo il cavallo pallido e dice vittorino scrive tra le altre rovine il signore aveva annunciato anche queste verranno pestilenze e morti quando dice e l'inferno lo segue ciò significa che aspetta di divorare numerose anime e invece anime che vanno in perdizione e poi abbiamo l'apertura quindi questi erano i primi quattro sigilli l'apertura del quinto sigilli invece mostra le anime dei martiri che aspettano la risurrezione del corpo questa poi avverrà alla fine del mondo infatti scrive san vittorino lontana dalle pene e dal fuoco e la pace dei santi dove i giusti sono visti e uditi dagli empi gli empi che appunto si trovano all'inferno ma questi ultimi non possono andare fino a loro colui che vede ogni cosa ha voluto che noi sapessimo quindi con l'apertura del quinto sigillo che tutti questi cioè le anime degli uccisi dei martiri attendono la vendetta del sangue cioè del loro corpo su coloro che abitano sulla terra ma e poiché negli ultimi tempi verranno sia la ricombenza eterna dei santi sia la condanna degli empi per questo si dice di loro che attendono infatti gli viene detto di aspettare ancora un po e gli vengono date appunto questi vesti bianche questa è appunto l'interpretazione che dà san vittorino lui si concentra di più nell'interpretazione letterale ma adesso vi leggo per esempio come cosa ha scritto san cesario vescovo di arles nel commento all'apocalisse che è un commento del quinto secolo ecco questo è molto molto interessante quello che scrive ve lo leggo testualmente come avete ascoltato quindi dalla lettura di apocalisse capitolo 6 i primi sette versetti ecco quando il testo sacro è stato letto il beato giovanni dice ed ecco un cavallo bianco e colui che lo mondava aveva un arco e gli fu data una corona e uscì vittorioso il cavallo è la chiesa cioè rappresenta la chiesa colui che lo cavalca è il cristo il cavallo del signore con l'arco di guerra è stato profetizzato un tempo dal profeta zaccaria lo troviamo infatti leggetevi zaccaria capitolo 10 versetti da 3 fino a 4 dove si parla appunto viene descritto il cavallo del signore e quest'arco che il signore ha come troviamo appunto come si legge nell'apocalisse e infatti dice il signore dio visitò il suo grece la casa di israele e ne farà notate bene ora qui per israele dovete intendere ovviamente l'israele spirituale cioè la chiesa quindi gesù visiterà israele cioè la chiesa infatti gesù si è incarnato poi ha sceso in cielo e farà di questa chiesa quindi dell'israele spirituale ne farà come un cavallo splendido in battaglia e a partire da lui esaminerà e governerà e da lui tirerà l'arco della sua ira e farà uscire ogni inseguitore quindi vedete ovviamente questo si ricollega a quello che si legge nell'apocalisse con l'apertura del primo sigilo quindi questo cavallo bianco rappresenta la chiesa ed è gesù che appunto che governa la chiesa dunque nel cavallo bianco poi dice noi vediamo i profete gli apostoli nel cavaliere incoronato chiede nell'arco noi riconosciamo non soltanto il cristo ma anche lo spirito santo infatti dopo che il signore fu risalito al cielo ed ebbe rivelato ogni cosa mandò lo spirito santo le cui parole per mezzo dei predicatori avrebbero colpito come fecce il cuore degli uomini che avrebbero vinto la loro incredulità e poi le corone sono appunto le promesse dello spirito santo ci sono delle brutte scritture qui ci sono diverse scritture che vengono citate da san cesario poi abbiamo poi l'apertura del secondo sigillo quindi arriva questo cavallo rosso e dice contro la chiesa vittoriosa e trionfante esce il cavallo rosso cioè un popolo malvagio e cattivo coperto di sangue del suo cavaliere cioè il diavolo e costui a cui è data una grande spada per togliere la pace dalla terra cioè la sua pace quella che è di questo mondo poiché la chiesa invece ha la pace eterna che il cristo le ha lasciato questo lo trovate in luca capitolo 24 36 giovanni 14 27 quando il signore dice io vi do la mia pace non come il mondo dunque come è stato già detto con il cavallo bianco si intende la chiesa con il suo calvadiere il cristo l'arco che tiene nella mano sono i precetti che attraverso il mondo intero come freccia acute di un prode questo lo leggiamo nel salmo capitolo 120 cioè il 119 versetto 4 quindi quindi gesù viene descritto con questo arco quindi queste frecce acute di un prode sono lanciati per uccidere ovviamente spiritualmente parlando i peccatori e per risvegliare il cuore dei fedeli la corona sulla testa e la promessa della vita eterna quella che appunto leggiamo nella scrittura poi il cavallo rosso il cavallo rosso dice gli viene data una spada e il potere di togliere la pace dalla terra cioè di permettere che gli uomini sotto l'istigazione del diavolo non cessino di suscitare tra di loro in maniera cattiva e continua liti dispute quindi contese divisioni fino alla morte e questo è tipico del corpo del diavolo prendiamo ad esempio gli eretici che sono divisi in 50.000 diverse sette divisioni e denominazioni varie e che si compattono tra di loro disputano se fanno sempre dispute tra loro ma allo stesso tempo combattono la chiesa quindi questo cavallo rosso che fa guerra appunto si tratta non soltanto di una guerra letterale come abbiamo visto prima l'interpretazione di vittorino di petovio ma anche di guerre spirituali poi nel cavallo nero noi intendiamo il popolo cattivo che obbedisce al diavolo ma dice aveva una bilancia in mano poiché fingendo di tenere la bilancia della giustizia i cattivi spesso ingannano quindi vedete sono rappresentazioni del corpo del diavolo poi dice olio e vino non siano danneggiati bisogna vedere nel vino il sangue di cristo questo è quello che appunto la scrittura indica spesso nell'olio e l'unzione del crisma e poi dice nel grano e nell'orzo c'è tutta la chiesa rappresentata sia nei grandi che nei piccoli o ancora nei capi e nei popoli e poi dice nel cavallo pallido bisogna intendere gli uomini cattivi che non cessano di sollevare persecuzioni questi tre cavalli in realtà non ne sono che uno quelli che uscirono dopo il cavallo bianco e contro di lui cioè che combattono cristo e il corpo di cristo e hanno per cavaliere il diavolo che è la morte infatti la morte segue questi tre cavalli dunque in questi tre cavalli bisogna vedere la carestia la guerra la peste ciò che il signore ha anche annunciato nel vangelo e che già si realizza e che andrà sempre più crescendo avvicinandosi il giorno del giudizio quindi si tratta quindi l'interpretazione letterale ci sta anche ma c'è anche appunto l'interpretazione spirituale come abbiamo visto prima poi il quinto sigillo invece sono i martiri ovviamente questo è quello che scrive san cesario e poi san beida scrive le stesse cose il commento di san beida alla palisse è un commento dell'ottavo secolo anche san beida più o meno scrive le stesse cose brevemente vi leggo qualcosa ecco il primo sigillo dice che il signore quindi il cavallo bianco e il cavaliere è il signore che si dà capo della chiesa quindi il cavallo bianco è la chiesa rappresenta e poi escono gli altri cavalli dice contro la chiesa vittoriosa e vincente uscì un cavallo rosso c'è un popolo avverso insanguinato per il diavolo suo cavaliere anche qui viene menzionato appunto zaccaria come abbiamo letto prima poi dice fu concesso a colui che visiteva sopra di portare via la pace della terra cioè la sua pace la chiesa invece ricevette la pace eterna che cristo le consegnò poi dopo il cavallo nero cioè dopo il cavallo rosso abbiamo il cavallo nero dice il cavallo nero equivale ad una caterva di falsi fratelli che tengono la bilancia della giusta fede ma danneggiano i compagni con le opere delle tenebre quindi falsi cristiani ed ecco un cavallo pallido è colui che vi sedeva sopra ha il nome di morte e lo segue l'inferno gli eretici che si fingono cattolici degni invece di una morte eterna trascinano dietro di sé un esercito di rovinati il diavolo infatti i suoi ministri sono detti per metonimia morte e inferno per il fatto che sono per molti causa della morte e dell'inferno si può anche semplicemente intendere che la pena eterna segue la quelli che si sono che sono morti spiritualmente quindi e poi i martiri ovviamente il quinto sigillo rappresentano i martiri quindi questo è quello che l'interpretazione per quanto riguarda i primi cinque sigilli del capitolo 6 di apocalisse poi se dio vuole continuerò e vedremo appunto l'apertura del sesto sigillo e vedremo appunto l'apertura del sesto sigillo